Il contratto del giocatore svedese scadrà alla fine del prossimo mese e si cominciano a circolare diverse idee sul suo futuro. Ciao tifoso rossonero! Iscriviti subito al nostro canale per non perdere le ultime notizie del Milan e lascia un like per supportare il nostro canale. Secondo un rapporto di Futmercato, al momento non ci sono garanzie che Ibrahimovic continuerà la sua carriera al Milan nonostante Olivier Giroud abbia ottenuto un nuovo contratto di un anno e quest'anno compirà 37 anni. Purtroppo, Zlatan ha sofferto di sempre più problemi fisici e ha saltato oltre 250 giorni dalla fine della scorsa stagione a febbraio 2023. C'è quindi la possibilità che la dirigenza del Milan non gli proponga un nuovo contratto. Lascia già il tuo like per rimanere aggiornato su tutto ciò che accade al Milan, grazie! Tuttavia, c'è ancora una possibilità per Zlatan di restare in Italia e anche nella sua attuale casa. Il club è di proprietà di Silvio Berlusconi, grande amico di Ibrahimovic fin dalla sua prima parentesi al Milan, mentre c'è anche Adriano Galliani. I due amici di Ibra sono pronti a offrirgli la possibilità di restare nella massima serie e magari giocare, ancora per qualche anno. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi, ma intanto non dimenticate di condividere la vostra opinione nei commenti qui sotto e di premere il pulsante Mi, Piace se vi è piaciuta la notizia. Iscrivetevi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del Milan. Forza Milan! Ditemi, tifosi del Milan. Cosa ne pensate di questa notizia? Lasciate qui la vostra opinione. Non dimenticate di premere il pulsante Mi piace e iscrivervi al canale. Più tardi tornerò con le ultime notizie sul Milan. Forza Milan!